Benvenuti ragazzi, sono Arcadino Ammere e siamo qua per l'ultimo video su Ken il Guerriero, l'anime almeno, perché gli ultimi video saranno sui film su Ken il Guerriero, sull'anime dell'84 e l'ultimo video, forse il più carino, il più simpatico, dove do non solo il mio giudizio recensione prima dei singoli avvenimenti dell'anime e poi la recensione completa, ma qua darò i miei top e i miei flop, le mie scene preferite, più top che flop, le mie scene preferite, le mosse che preferisco, quindi un video molto simpatico, molto divertente per fare due chiacchiere, per dirvi un po' quello che non è la narrazione, ma altri elementi, va bene? Vi invito a iscrivervi, come sempre, mi raccomando, supportatemi l'obiettivo del canale, mille iscritti entro quest'anno, 31 dicembre 2026, quindi basta un click, un like, un commento, supportatemi come potete. Quindi iniziamo, vi spiego come sarà strutturato, io ho scelto le mosse che amo, le scene più iconiche, i personaggi preferiti e i personaggi preferiti. Gli preferiti sono solo due, perché sono tutti belli, tanne due, e i personaggi preferiti, come le scene iconiche e le mosse che amo, sono dieci posizioni, avranno dieci posizioni. Quindi incomincio con le mosse che amo, perché è un po', voglio far crescere l'hype, magari vi fate voi delle idee su quello che può essere il futuro. Quindi iniziamo, cambiamo il colore, lo mettiamo blu, vai, mosse che amo, vado dal decimo posto con i banner a salire, e vi spiego anche perché mi sia piaciuto e perché in quella posizione. Decimo è una, siccome non l'avevo trovata, perché erano novele, ho detto qual è una mossa simpatica attraverso i punti di pressione, qual è la mossa simpatica che mi fa sempre ridere, anche se viene usata poco da cane il guerriero, perché è molto utile, qual è? Decimo posso farsi indicare la direzione di qualcosa, più che far parlare le persone dicendo tu adesso sei costretto a dirmi questo segreto, oppure dirmi dov'è il tuo capo, c'è proprio il punto di pressione dove dice devi indicarmi, fa no io non ti dirò niente, è stupido bastardo, e poi c'è la mano che indica, quindi questa è una decima posizione così simpatichella, perché mi mancava una, però è molto carina, io la userei molto più spesso anche nella vita quotidiana senza uccidere. Per forza le persone fosse Kenshiro, qua incominciamo a essere interessanti, nono posto per il pugno del vento separatore di Yui, uno dei cinque astri del cielo di Nanto, mi pare che si chiamasse così del ciclo, vabbè, i cinque astri, famola semplice di Yui, il tizio del vento. Un colpo che non è il mio preferito, però visivamente è molto spettacolare, pare la brutta copia di quello di Ray se vogliamo, però è molto affascinante come colpisca con il vento, quindi ci sia un effetto stilistico, perché ho valuto sia lo stile che l'efficacia, faccio un po' come quei programmi che valutano come sfili, come ti vesti, io valuto lo stile, l'efficacia, la potenza, ecco, tutto insieme. Quindi, statisticamente è molto figo, non è fra i miei preferiti, però un colpo di tutto rispetto, tutto rispetto. E stiamo sempre nelle forze di Nanto, con l'ottavo posto, con Shuren, un gran bel colpo di fuoco, che in realtà è piuttosto raro vedere questo tipo di colpo alla Dragon Ball nel mondo di Ken, dove ti fanno esplodere le parti, ti toccano... Ecco, il colpo di fuoco, stilisticamente, è notevole, forse un po' poco strategico, se vogliamo, rispetto ad altri, molto meno, anche filosofico, perché ci sono colpi ben più ragionati, filosofici, crudeli, manipolatori, invece questo è un colpo di fuoco, che fa la sua bella figura, ma mi sarei aspettato di più. No, scherzo. Poi, siamo sempre fra i cinque assi di Nanto, settimo posto, un gran bel colpo, quello del muro infranto, Yusa, che usa con Raul, tutto rispetto per Yusa, davvero un bel colpo, ben fatto, che ha molto stile, è potente, ma non troppo, perché la squadra di Nanto è inferiore a quella di Okuto, quindi Yusa va in settima posizione, perché comunque ci sta. Questo sesto posto è un colpo che di per sé è venuta da solo una volta, nell'anime, è uno dei miei colpi preferiti, quindi come concezione di manipolare ed essere crudele col tuo avversario è 10 su 10, è uno dei miei preferiti, però capisco anche che non lo puoi usare sempre, stilisticamente è bello, ma fino a un certo punto è un colpo molto poco considerato, che è geniale, geniale. Ovvero, la camminata all'indietro di Kenshiro. Usato, fammi ricordare, con, non con Jagger, qual era l'altro? Ah, Amiba, giusto? Amiba, sì. Colpo fantastico. Immaginate voi colpire uno così e che lui cammini per tutta la vita all'indietro, sbatte contro i muri, geniale. È fra la crudeltà, quella vera, e la risata continua. Io mi farei delle risate a seguire quest'uomo, il mio peggior nemico, di farci il colpo della camminata all'indietro e lui schiatta. Ho detto Amiba, ma forse posso sbagliarmi per i fan super duri e puri qua sotto, correggetemi nel caso, mi pare proprio Amiba. Non è Jagger, ma è quello successivo, quindi. Quinto posto, un colpo che secondo me non si ricordano in tanti, ma è bellissimo. Abbiamo usato solo una volta di nicchia, che è un gioiello, un gioiello incredibile, e che non è nemmeno usato da un protagonista, da un comprimore, ma da un villain, ovvero i dieci raggi di Fujin. Vi ricordate la prigione di Cassandra? C'erano i due tizi che all'ingresso avevano quel filo invisibile che tagliava. Ecco, questi sono i due allievi del maestro Fujin, che quando poi Fujin deve affrontarli, applica quel filo invisibile che taglia tutti, però lo fa con i dieci raggi. Ok? Cerco di essermi spiegato, insomma. Bellissimo. Colpo strepitoso. Colpo strepitoso. Vi è mostrato poco, ma è un colpo straordinario, secondo me. E anche intelligente, strategicamente intelligente, stilistico. Eh, quinto posto perché alla fine non ha la potenza distruttiva di alto, però stile e carisma per questo colpo incredibile, che poi muore su Fujin, poverino. Avanti. Quarto posto per un colpo che mi fa impazzire, forse a livello stilistico è secondo. Secondo ha pari merito col primo, perché è davvero straordinario, molto bello da vedere, ho detto, ma anche potente e strategico. Un colpo straordinario, quale il lupo solitario, mi pare, e la grande montagna, mi pare sia, e la grande montagna, comunque, quello di Ryuga. È proprio bello, cioè, il freddo che ti paralizza, ti taglia gli arti, ti taglia, è proprio bello da vedere, incredibile. È uno spettacolo per gli occhi. Poi è molto intelligente, lo fai dalla distanza quasi, te lo puoi giossare, molto bene. Grandissimo colpo. Terzo, vi dico che non c'è nessun colpo di Raul, perché uno potrebbe dire, ma il colpo, quello delle mani, che se uno si avvicina, Raul fa il colpo con le mani, sì, è potente, ma è grezzo, è grezzissimo. Anche il colpo di Ken, dei cento pugni, lì è grezzissimo. Volevo inserire quello del maestro Ryuken, che ti sdoppi, anche interessante, però alla fine, non lo so, i cloni, mi aspettavo qualcosa in più. Terzo, terzo posto, un colpo che è strano, semplice, che si mostra, forse nei primi episodi di Kenshiro, ho usato poco pure questo come la camminata all'ineso, ma che è geniale, perché è crudele e manipolatorio. Il colpo della pressione alle tempie. Tu dai anche il tempo alla vittima di dire, cazzo, sto morendo. È straordinario. Semplice. Io lo userei sempre come fatality per nemici, quelli meno importanti, no? C'è anche il figo, quindi ci sta. Però sicuramente questo terzo posto non può gareggiare contro i due, che sono della scuola di Nanto, che vincono per eleganza su tutti, per stile. Quindi sono colpi. Uno più strategico, elegante, ma più strategico. Con l'altro molto più elegante, è un pochino meno duttile, più che meno strategico. Secondo posto per un colpo che adoro. Amore, dalla prima volta che l'ho visto, ho usato poco però. L'aerone volante, calcio volante di Shu. Quanto è bello. Strategicamente, pensate, avete tanti nemici e li tagliate tutti. Elegante, ma potente, duttile. Lo puoi usare dove cazzo ti pare, con un avversario solo, due, dieci, cinquanta. Quindi, fantastico. Lo usa anche Ken quando poi, dopo che è diventato cieco, lo userà. Ma al primo posto non posso che mettere il colpo più elegante, che forse pecca, se vogliamo, che ha poca duttilità. Perché lo puoi usare solo in certe condizioni. Dalla distanza non lo puoi usare, infatti lo vedremo. Cioè, puoi saltare, ok, perché c'è l'uccello nella frase, ma, come vedremo, nelle vicinanze funziona benissimo dalla distanza. Ma vince, ci mancherebbe, l'uccello di Nanto, direi. Che pulizia, che eleganza, che velocità. E da lontano non lo puoi usare. Quello magari è il colpo del vento di Yui, quello è figo. Però vince l'uccello di Nanto, direi. E allora riprendiamo con i personaggi spreferiti, e poi faremo quelli preferiti. Spreferiti sono quelli, ovviamente, che non mi piacciono. Sono molto pochi, solo due. Sono quelli che, dico, brutti questi personaggi. Chi mi ha seguito nelle mie recensioni forse li avrà già indovinati, perché sono pochi. Secondo posto, facciamola molto breve. E' lui, il villain meno riuscito, a mio parere, dei rivali di Kelly. Sauter. Non mi piace. Come ho detto, si presenta bene. E' il villain che devi sconfiggere. Con faccia da nazista. E' cattivo. Rapisce questi bambini per fare la piramide, anche se non hanno le forze necessarie. Le sue motivazioni sono molto deboli, molto fragili. Si vuole essere anche un po' pietosi sul finale, per renderlo empatizzabile con lo spettatore. Dallo spettatore, ma deludente. Perché poi lo scontro non è neanche interessante. Ha il trucchetto, che ha gli organi rovesciati, perché il cuore è dall'altra parte, queste robe qua. Oh, no. Storia con il maestro. No, no, no. Ma il presagio che odio profondamente, questo sì. Sauter è uno spreco, ma quello che odio profondamente è Giulia. E' il personaggio che la carità, ecco, è proprio piatto. Io capisco il senso di insedire Giulia in questo contesto. Raffasenta la carità, per cui tutti si innamorano della carità e dell'amore incondizionato. E quindi Ken, che è uno buono, si innamora della buona, perché essenzialmente sono vicini come vedute. E quindi Raoul si innamora, essendo l'opposto della carità, di questa donna. Poi ho fatto la battuta che erano solo due donne nella scuola di Nanto, quindi per forza che tutti volevano scoparsi Giulia. Ma detto questo, il gesto più importante che fa è quello di suicidarsi perché non vuole accettare tutte le azioni di Shin. Quindi, ripetiamo chi si vuole scopare Giulia. Shin, Toki, Raoul, Ken, mi pare anche Amiba, eccetera. Ah, Yusa. Allora, è noioso. Il personaggio che mi pare la Madonna. La Madonna in un contesto dove ci sono personaggi femminili interessanti. C'è Mamia, c'è Bella, c'è la stessa figlia del boss, dei cinque astri. Personaggi comunque che hanno un minimo di evoluzione e di rilievo. Qua Giulia è inutile. Un personaggio inutile proprio. Non lo sopporto. Mi dispiace. Poi anche la fine che fa con Ken. Cioè, sta un anno con Ken. Va bene. No, non mi piace. E quindi, andiamo avanti. Personaggi preferiti. Va bene. Siamo pronti. Decimo posto. Un personaggio secondario, sicuramente, che però, fra i secondari, fra i villain che Ken si deve sbarazzare, perché è un sottoposto di un grande rivale di Ken, per me funziona tantissimo. È il più degno, ovvero il colonnello dell'esercito di Golan. Non so se vi ricordate. Sottoposto di Shin, mi pare, sì, Shin doveva affrontare. Cosa fa questo tale? È un essere umano normalissimo, che è un militare, che fa le trappole a Ken e che ha anche delle nozioni della scuola di, mi pare, Nanto. Bellissimo. Un personaggio cazzuto che ti fa dire, è vero, non sarà un grande guerriero della scuola di Nanto, di Okuto, eccetera, però è degnissimo. Anche visivamente è bello cazzuto. Mi è piaciuto tanto. Quello avrebbe meritato più spazio, non i gigantoni che ogni tanto compagno dice che palle, i gigantoni. Nono posto, questo decimo era giusto per, come dire, menzione d'onore. Nono posto per un personaggio, qua sono tutti importanti da qui in poi. Nono posto per un personaggio tanto amato che metto nono per una ragione specifica, perché è troppo monodimensionale nel suo essere eccezionale. Che cazzo stai a dire, Arkady? Shu! Shu ha una delle scene più belle dell'anime, come vedremo dopo. È un personaggio completo, sicuramente, che è importante per la trama, fa crescere Kenshiro. È affascinante la sua storia. È la stella della benevolenza, mi pare. Era sì. Lui si è accecato pur di far vivere Kenshiro, e lo aiuta di nuovo. Ed è straziante la sua morte. È un bellissimo personaggio, che però è troppo cristologico. E come avrete capito anche con Giulia, i personaggi troppo cristologici, troppo buoni, perché il loro animo glielo ordina. Ecco, io voglio più sfaccettature. E Shu è molto bello come personaggio, ma solo nono. Poi abbiamo Yusa, la nuvola. Yusa è bello perché l'anime fa un bel approfondimento. Sfaccettate, un Don Giovanni, lui vuole essere libero, però, per amore di Giulia, va a affrontare Raul in un affascinante scontro fra maestri di arti marziali. Quindi funziona, infatti è ottavo. Però devo dire che ho visto poca oscurità, poca ambiguità. Sì, c'è. E' interessante quando ruba il cavallo per non fare un dispetto a Raul o a Rao, no, perché io dico sempre Raul, però è Rao, ma per guadagnare tempo. Quindi si sta sacrificando per dare un giorno in più a Giulia, che se non ce ne sarebbe bisogno, vabbè. Ma quelle sono sciocchezze. anche se ha detto giorni prima che non sarebbe mai morto per simili facezze, quindi Yusa funziona. Anche visivamente, a stile ci sta. Settimo posto per un personaggio centrale qua, qualche polemica forse, Kenshiro. Ha ragione? Le ho già dette prima, in realtà. Adoro Kenshiro, è un ottimo protagonista. Ottimo protagonista, davvero. Su amore per Giulia, le sue battaglie, la sua missione, e dimostra davvero di essere l'erede della scuola di Okuto. Quindi è stato scelto bene, perché non è quello più forte, si lo diventa, ma è quello con il cuore più adatto, il razziocinio più adatto per avere tutto quel potere e per usarlo nel modo giusto. Il personaggio, quindi, che alla fine, nonostante il sangue, nonostante tutto quello che fa, è un buono tukur, e a me i buoni tukur non piacciono. Quindi, settimo perché è il nostro Kenshiro, quindi non puoi volergli male. E poi è anche troppo bello per me, ma che sono un po' invidioso. Quindi, settimo posto perché è il Kenshiro? Vi voglio più ambigui, più ambigui, sesto posto, per Ryuga. Adoro Ryuga. Sarebbe stato fra i primi due e tre, ma dura troppo poco nell'anime. Troppo, io parlo dell'anime, poi non dirò eh, ma perché nel fumetto spin-off va benissimo, il fumetto spin-off, film dedicato, quello che vuoi fare. Ma Ryuga, appena l'ho visto, è lui il mio personaggio preferito. Bello che si sacrifichi, che vuole lottare con Ken, e ha trovato il salvatore. Mi piace che abbia lavorato per Raoul, perché è un personaggio che cerca il leader, come ho detto, assomiglia tanto, anche se con le dovute differenze, a il legato di Trigan, della serie. mi piace tantissimo lo stile di combattimento come si presenta, è straordinario, proprio visivamente, proprio bello, poi ha un colpo del lupo solitario della montagna, bellissimo, dura troppo poco. Quindi, non posso dargli il peso e il valore che avrei voluto consegnarli. Spiace. Quinto posto, un personaggio che compare poco, perché è il primo che schiatta. Però che fascino questo Shin, che fascino. Certo, cattivo un po' perché sì, senza, perché è uno stronzo, intanto, stile 10. Vabbè, anche Ryuga prima. Qua Shin, proprio stilista. Questi capelli biondi, ce la faccia da stronzo, da chi se la crede. E poi, è quello che rende Ken, l'uomo dalle sette stelle. Cosa non da poco. No? Membro della squadinanto. Quindi, funziona tantissimo. Mi è un po' caduta la narrazione quando ho scoperto che Shin ha fatto quello che ha fatto rubando Giulia a Ken, perché gliel'ha detto Jagger. Non mi è piaciuta quella cosa. Ve lo dico perché ha tolto un po' di carisma a questo Shin. E dai, Shin è abbastanza intelligente da fare le cose da sé. Certo, hanno reso Jagger più interessante, ma hanno abbassato un pochino Shin. quarto. Al quarto, quinto. Al quarto posto c'è uno che non immaginerete mai, perché mi piace tantissimo. Non è primario, è secondario, ma è quel tipo di personaggio che amo in un contesto dove sono tutti forti, tutti cazzuti, tutti con i superpoteri. Un po' all'occhio di falco degli Avengers, c'è Iron Man, Capitano. No, ma lui è un semplice umano in mezzo a tante persone più forti di lui. Qua è lo stesso. Amiba. Perché adoro Amiba? Perché è uno self-made. Cioè, lui cerca con l'inganno, con la strategia, cerca di imparare diverse mosse, si finge, tochi, gioca con la mente di Ken e quasi lo batte, quasi lo batte perché lo immobilizza, cioè ha fatto tutto questo da solo. Non è stato aiutato dai maestri, dagli amici, ha fatto tutto da solo, con grande intelligenza, strategia e forza di volontà. Quindi a tutta la mia stima, grande Amiba, avevi quasi fregato l'erede della scuola di Okuto, però lui è il protagonista e quindi deve vincere per forza. Mancano solo tre posti, ragazzi. Qua ci sono i pezzi grossi, pezzi grossi qua. Amiba, l'ho citato, era così alto, però qua non si scherza. Terzo posto per Toki. Toki è una storia straziante che mi fa morire, mi fa piangere il cuore, mi commuove. Lo sconto con Raul, con il fratello, è straordinario proprio per le emotività con cui l'anime il rompe nel cuore dello spettacolo. È straordinario il personaggio perché prima era un grande guerriero equilibrato, certo, ma sempre buono, fra virgolette, voleva usare le tecniche di Okuto nel campo medico anche se era un grande guerriero. Quando poi si avve... no, viene colpito dalla malattia perché gli è arrivato quella sabbia velenosa, quello che era diventa un'altra persona e fa quello che faceva prima, aiuta le persone, ma non cancella la sua voglia di essere ancora un grande guerriero. È orgoglioso ma non lo fa vedere e mi piace tantissimo questa cosa. È strategico, è un grande comunicatore, ma quando Raul viene fuori lui non resiste e lo deve affrontare anche sapendo di morire. infatti si fa quel colpo alle gambe per diventare più grosso e Raul piange perché capisce che è un suicidio, perché non poteva reggere il suo corpo, il corpo di Toki. Quindi è un grande personaggio, addirittura aiuta Rey nell'essere Super Saiyan, cioè che gli dà quel giorno in più prima della morte. Quindi è un grande guerriero, grande uomo che avrebbe meritato un finale un po' più allegro, no, più duraturo, più nel senso che avrei preferito vederlo lui senza più poteri magari, che non può lottare, ma che aiuta le persone nei vari villaggi, così davvero staziante e chiude benissimo in realtà il rapporto con il fratello che è davvero toccante. Secondo posto per l'uccello di Nanto, senza sé, senza ma. era una lotta dura fra il primo e il secondo, ma Rey per come l'ho conosciuto abbastanza, ma non completamente. Essendo comprimario non mi hanno dato tutto questo spazio, quello che avrei voluto. Mi hanno detto che c'è un film su di lui dove è più oscuro. Probabilmente se quelle parti fossero state inserite nell'anime sarebbe stato primo, perché questo Rey che comunque fa la cosa giusta è straordinario, l'amico di Ken che affronta Raoul perché c'è un debito di riconoscenza nei confronti di Ken. Sospetta di Ken come uomo dalle sette stelle, cioè lui non lo sa, ma la copia dopo, ma capisce che non può essere lui ed è interessantissimo tutta la sua vendetta per sua sorella. È un personaggio straordinario che è entrato nel cuore di tutti e quindi ci mancherebbe con la sua morte straziante, straziante, quindi... Hai già vinto con la mossa migliore? e qua arrivi secondo, dai, anche se eri poco poco da arrivare in testa e vince ovviamente, ovviamente per me, perché è un personaggio straordinario. Rao, in lingua giapponese, è un personaggio straordinario shakespeariano che inizialmente appare un po' un gran figo con il suo cavallo nero, con il suo stile da guerriero che ho io su Skyrim, resimente, però dalla metà in poi lo approfondiscono tantissimo, prima con Toki, poi con Giulia, il rapporto con Ken, quindi sul finale lui tira fuori delle motivazioni incredibili, cioè non è un... non è un Jagger che è invidioso di Ken, non è uno Yoda che vuole essere, vuole avere delle approvazioni, non è quel tipo di personaggio che vuole il potere ad ogni costo perché sì, lui vuole essere il guerriero più forte per andare oltre i propri limiti e lo dimostra il fatto che anche quando perde l'esercito a lui non interessi, niente, niente, ed è interessante allo stesso tempo come il destino lo porti a vincere, inizialmente perché il maestro Ryuken muore d'infarto, come un segno del destino che lui trovi Giulia perché precipitando nello sconto con Ken è lì che Giulia stava scappando e la trova e dice ah, allora la sella del destino vuole che... allo stesso modo la sella del destino vuole che lui muoia e accetta il suo fatto. La scena finale non mi è piaciuta come vi ho detto, un po' esagerata nella messa in scena però accettabile, quindi è un personaggio straordinario soprattutto la parentesi con Toki, suo fratello, quella scena in cui Raoul si porta da bambino. Toki sulle spalle pur di non andare da solo alla scuola di Okuto rappresenta il personaggio. Poi come è cambiato perché prima da ragazzo come primo posto c'era l'amore per il fratello Toki che poi è maturata nell'ambizione. Anche l'amore di Giulia è un segno una volontà di voler essere qualcos'altro oltre la sua sete di sangue. Vuole possedere quell'aspetto che non ha mai avuto ovvero la carità. Quindi personaggio straordinario che merita il mio primo posto ma ripeto se Ray fosse stato esplorato anche nella sua oscurità proprio con dei focus avrebbe vinto Ray di Poe. però Raoul è davvero il mio miglior personaggio proprio degno di un'opera di William Shakespeare. E chiudiamo con le mie scene preferite. Anche qua menzione d'onore divertente un po' come le mie mosse preferite è una scena straordinaria per la comicità perché inizialmente Ken Ken Shiro è più cazzone all'inizio fa più battute un po' alla Schwarzi anni 80-90 action i film action muscolari fa un po' lo stronzone e non so se vi ricordate nelle prime 20-25 puntate mi pare Ken deve andare da Jagger sì e c'è questo tale che fa adesso io ho imparato questa mossa della pressione alle tempie e ti faccio vedere perché mi pare Jagger me l'ha insegnata e fa Ken con la faccia fa fammelo vedere ok gli metti i punti di pressione cioè gli tocca i punti di pressione questo bandito ma ovviamente non gli fa niente sono morto dal ridere è proprio volevo più sceni così soprattutto nella seconda parte dove c'è tanto dolore avrebbe fatto bene ridere ogni tanto scena meravigliosa scena meravigliosa menzione d'onore ma alla nona c'è Ken e Raoul quale delle tante direte voi una molto particolare non è quella finale che non mi è piaciuta affatto in realtà ma è quando sono lì per Giulia a tre quarti quasi alla fine no? che Raoul deve deve rapire Giulia e c'è Ken avanti dove si scopre che Ken usa la tecnica della trasmigrazione delle anime ecco lì è molto bello perché Raoul trema e lì anche si decostruisce quello che sembra il grande il grande villain no? lo si rende umano Ken è al massimo del suo splendore e Raoul trema molto bella quella parte davvero notevole notevole ottavo posto per una scena piccola ma che ricordo nitidamente di un passaggio secondario che non ho citato e che non mi fa impazzire ovvero lì sui carboni ardenti in che contesto? vi ricordate verso metà che c'è quel villaggio dove c'è ancora Raoul con la sorella no? e per punizione questi banditi fanno stare sui sui carboni ardenti le persone e tutti accettano di essere picchiati e di stare agli ordini dei banditi per non finire sui carboni ardenti Lin invece idealista questa bambina idealista pur di non accettare questa cosa ci va di sua spontanea volontà e da lì poi il popolo si ribellerà scena fantastica che rappresenta il episodio di Lin che non amo affatto però è letteralmente la speranza se una bambina così va con quella fierezza sui carboni ardenti lo può fare chiunque chiunque può lottare per i propri diritti quindi scena incredibile che spingerà poi la sorella di Ray a diventare una donna forte quindi scena bellissima bellissima settimo posto per Toki in prigione quando uccide i due che lo stanno per per massacrare perché per ordine di Raoul Ken non doveva entrare in contatto con Toki si capisce che Ken è arrivato in ritardo ma in realtà Toki si sarebbe potuto liberare in ogni momento e fa quel colpo straordinario è inaspettato come scena che tu pensi adesso Toki non può fare niente Ken dovrà intervenire no in realtà Toki fa tutto da solo con quello stile tutto suo quindi è una scena che rimane in testa bella per quello che rappresenta nella serie e ci presenta al meglio il personaggio come Toki che ricordiamo lo spettatore pensava di aver conosciuto nelle vesti di Amiba che che era l'opposto quindi bella bellissima sesto posto Raoul in lacrime quando capisce il barbatrucco di Toki nel loro ultimo scontro capisce che il fratello sta andando oltre le sue possibilità Raoul lì diventa ai miei occhi un essere umano completo ed è una chiusura del discorso con il fratello Toki straordinaria Raoul in lacrime non lo rende più ridicolo ma più virile più umano più combattente e lo avvicina a Ken come spirito da guerriero scena straordinaria e poi con una regia è una fotografia notturna che davvero valorizzano quel momento quinto posto flashback di Toki e Raoul quale direte voi quello che avevo già citato prima quando Ryuken spero sia così mi devo grattare perché c'è quest'area che mi arriva e che mi fa che mi da fastidio comunque quando Ryuken arriva e dice posso portare solo uno di voi due chi sarà il primo a salire sulla montagna no sulla non sulla montagna come si dice sulla rupe insomma Raoul cosa fa si prende Toki sulle spalle e se lo porta Ryuken non può che apprezzare la volontà è una scena bellissima perché rappresenta perfettamente poi il loro rapporto che che verrà chiuso con la scena precedente quindi si collegano le cose quinto posto per questo flashback straordinario quarto posto per un personaggio dimenticato nel senso che dura poco Shin il suo suicidio è bellissimo come dopo che abbia lottato con Ken non voglia morire ma voglia ce la voglia morire per mano di altri ma per mano sua e quindi si lancia esattamente come fece Julia questo simbolismo mi fa impazzire e rende il personaggio fiero non affatto patetico accetta la sconfitta di un grande nemico amico come Kenshiro e vola ovviamente verso la morte ma Shin è un gran personaggio peccato non conoscerlo meglio spero che in qualche film si faccia un focus su di lui perché è un personaggio meraviglioso primi tre posti il terzo l'ho già citato prima Shuke trasporta la pietra che sarà la punta della piramide di Sauter davanti agli occhi di Kenshiro questa scena è straordinaria cioè le altre due va bene sono proprio ancora più pazzesche perché sono personaggi che più mi coinvolgono ma per costruzione anche registica questa è forse la più bella a livello cinematografico ha un sacco di significati davanti a questi bambini c'è quest'uomo che rappresenta il Cristo che la porta come se fosse la croce con Ken e viene schiacciato dalla pietra che poi lacrima sangue e insomma è uno ci rimane male per forza che devi fare è traumatica ma non quanto le ultime due coinvolgono i due personaggi preferiti di prima avete capito dai la prima è la morte di Ray proprio quella definitiva quella quando ha capito che ha finito i suoi giorni dopo che è diventato dai capelli bianchi e si chiude nella stanza mentre ha dei dolori lancinanti ci sono le persone là fuori ma mia vorrebbe entrare ma lui vuole stare da solo poi quando morirà uscirà il sangue da sotto la porta c'è quella voce fuori campo che spiega che lui non si pente di nulla Ray la davvero è un mi ricorda tanto Ray sempre di Trigan perché Trigan ha preso tanto da da qui il reverendo l'amico di Wash The Stampede il prete insomma è un personaggio così capisco che per molti sia il preferito è anche quasi il mio ma straordinario e infatti non a caso la prima è Raoul Ray in che senso nel solo senso possibile nella scena più bella dell'anime secondo me anche per come arriva perché ci permette di conoscere Raoul e farcelo odiare e farci intimorire da lui quando Ray affronta Raoul e lui senza scendere da cavallo lancia il mantello che aveva e poi infilza Ray dice vabbè però il combattimento continuerà no e in tutti i giorni si è morto il discorso che facevo nelle recensioni è che colpi del genere non si sono più vissi cioè quando io vedi quella scena anni fa pensai cazzo questi sono davvero maestri poi più in là vedremo che questi maestri si colpiscono anche in modo mortale ma non muoiono mai quasi ok quindi quella scena lì è fondamentale ed è bellissima perché ci fa empatizzare con Ray che sta morendo poi arriva Ken che dice Ray perché l'hai fatto no ci fa conoscere Raoul che poi deve scendere da cavallo e Ray poi avrà quella breve ma intensissima parentesi dove vuole salvare Mamia vuole affrontare Iuda e quindi quella scena per me è straordinaria anche visivamente per come viene mostrato Ray che sta infilzato no viene infilzato dalle dita di Raoul che lo che lo lancia poi a Ken che lo prende al volo come se fosse un bambino come se fosse una persona cara che ti sta svanendo fra le mani questa è la mia scena preferita quindi alla fine giusto per fare questo recap ha vinto miglior personaggio Raoul ma poteva vincere Ray siamo lì lo preferito è Giulia le scene preferite adesso è quella di Raoul e Ray ma poi c'è la morte di Ray come secondo Ray è sempre lì siamo a Raoul e come mossa quella preferita è quella dell'uccello di Nanto di Ray siamo sempre lì mentre al secondo posto c'è Shu ok Shu con il suo secondo posto nelle mosse speciali spezza un po' questo dominio ma avete capito che Ray e Raoul se la giocano quindi io chiudo qua spero vi sia piaciuto questo video scrivetemi qua sotto i vostri personaggi preferiti le scene preferite preferiti le mosse fatemi sapere sono molto molto curioso e alla prossima recensione dei film di Canel Guerriero che per ora sono tutti orribili ciao ciao